Ben trovati a tutti quanti voi, domani la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta per i numeri, vi rimando ai prossimi contenuti, intanto prima di parlare di questa partita, che è una partita più importante dell'anno per la Juventus, oggi è diventata la più importante dell'anno, a mio modesto parere, ma durante il corso del campionato ve ne sono state altre più importanti, a mio modesto avviso. Allora torniamo a avere un attimo sulla situazione dell'Inter, perché sono giorni molto caldi, giorni in cui Pimco dovrebbe prestare i soldi a Zhang e Zhang dovrebbe coprire il debito con Hoak Tri. Ma c'è un messaggio su X, Twitter, ripreso anche da Bandito Rosso Nero che su questa vicenda sta facendo davvero un'informazione molto minuziosa. Silvio Nicolini, potete trovarlo su Twitter, su X, Silvio Nicolini dice buongiorno, certe situazioni possono succedere soltanto in Italia, presto dovranno chiedersi quelli della FIGC e UEFA, dove è il rispetto delle norme che prevedono requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale per chi possiede quotiente societarie di un club Zhang. Lo stesso discorso va fatto per chi assume cariche dirigenziali. Certo che non era possibile ipotizzare nel 2022 questa situazione, ma lo è diventata nel 2024 con la prima scadenza del debito. Perché questa è la prima scadenza del debito, contratto da Zhang Hoak Tri. Stiamo parlando di un signore che non può avere beni immobili e immobili in Italia, vista la sentenza della Corte di Appello di Milano. Beni che verrebbero aggrediti dai creditori. CCB in primis. Bisogna applicare le leggi italiane. La situazione attuale, scrive Silvio Nicolini, prevede che il pagamento del pigno avvenga tre giorni prima della scadenza. Scade il 20 maggio, quindi, fra qualche giorno. Il creditore trascorso questo termine può disporre a proprio piacimento entro dieci giorni la vendita al miglior offerente. Il pagamento avviene tra il debitore Zhang, che ha ottenuto un prestito per il riscatto Pimco, e il creditore Hoak Tri. Silvio Nicolini si pone questa domanda. Il pagamento avviene tra il debitore Zhang, che ha ottenuto un prestito per il riscatto Pimco, o il creditore Hoak Tri. Questo non è possibile, visto che determinerebbe un bene immobile facilmente aggredibile da parte di CCB, con la richiesta di un sequestro cautelativo. Il sequestro cautelativo di somme di denaro, quando a fronte di un pigno regolare, vi è la sostituzione dello strumento finanziario, in quanto caso la somma di denaro non ha effetti novativi sull'oggetto della garanzia. Nel caso in cui la transazione avvenga estero su estero, tra Hoak Tri e Pimco, questo è possibile, ma determinerebbe un cambio di proprietà della società, e questo cambio di proprietà escluderebbe Zhang con un risvolto negativo sul bond emesso. Se effettivamente vi è la clausola Change of Control, l'eventuale proprietario che sia Hoak Tri o Pimco o altro, si troverebbe a dover rimborsare integralmente e immediatamente questo bond da 415 milioni. Escludiamo eventuali procedimenti civili o penali, i quali allungherebbero i tempi per l'iscrizione ad un campionato, vedremo cosa succederà tra una settimana. Lo scrive Silvio Nicolini su Twitter, quindi i dubbi sono estremi, quale imbroglio stanno facendo? Quale imbroglio? È particolare, quindi io non do nessuna interpretazione, non essendo bravo in discorsi di passaggi di natura finanziaria, che ne so io, che ne posso sapere io, ma c'è chi lo è, esperto. E magari molti di voi ne sanno molto più di me e se andate su Silvio Nicolini, Twitter X, potrete diciamo attentamente vedere e valutare come stanno le cose. Di questo naturalmente non vi parla nessun giornale. Io vorrei sapere Valerio Piccioni della Gazzetta dello sporco. Dove? Cosa fa? È nascosto? È in vacanza perché non ci sono procedimenti per la Juventus. Dove sei Valerio Piccioni? Dove sei? Tu che hai rotto i coglioni alla Juventus per 20 anni? Dove sei? Dove Avzim out? Perché queste cose non le dice? Perché Avzim non ve le dice queste cose? Mentre l'anno scorso diceva che la Juventus era già retrocessa in serie B e B. Perché non ve lo dicono? Perché tutti questi altri paranoici personaggi che girovagano sui social parlando di record contro record non parlano di queste vicende? Ma ne parla bandito rossonero ne parla Aldo di Girolamo. Siamo ancora in pochi. Dove sono tutti questi portatori di verità, portatori di insulti, portatori di fango nei confronti della Juventus? dove sono? Dove è Ziliani? Dove è? Varriale, a cui Varriale sta facendo un processo per maltrattamento di donne? Dove è Pistocchi? Dove siete? Dove è? Dove è il tanto immaginato inviato delle Iene? Dove? Dove siete? Fate tutti silenzio. Perché fate tutti silenzio? Perché state zitti? Ipocriti? Siete degli ipocriti? Questa è la verità. Siete nient'altro che degli ipocriti? Perché questa è una situazione di una gravità enorme, tenuta nascosta, sottaciuta. E mi sembra però che c'è qualcuno che poi non sta fermo. Ma l'informazione dov'è? Vorrei sapere dov'è Pressing Italia 1? Balzarini, perché non lo dice ai tuoi colleghi di redazione, che sono pronti a fare servizi aggressivi quando c'è di mezzo la Juventus piuttosto che il Milan? E adesso non parlano. Dov'è il report? Dov'è? Dov'è Bruno Vespa porta a porta mentre un club italiano che si freggia di una stella di cartone dopo aver vinto 14 scudetti? E non fa un passaggio su queste vicende. State tutti zitti, state. Tutti. Naturalmente io non parlo della gazzetta dello sporco, del Corriere dello sporco e del tutto sporco, non ne parlo. Perché quelle sono ormai carte dove l'inchiostro fa propaganda pro Inter? Perché il silenzio del tutto sporco e propaganda pro Inter. Non soltanto la gazzetta dello sporco che è uno sponsor ufficiale dell'Inter, oltre che il megafono. Dove sono questi signori nelle tv private? Anche Giuliani si sta zitto su questa vicenda, ne ha detto qualcosa. Anche Giuliani. Immaginate un po' che silenzio stanno facendo, mentre siamo al bivio di un probabile cambiamento. Ma di più, oltre a questa stampa, se vogliamo chiamarla stampa, ma questa è propaganda pro Inter. La procura della Repubblica dove è? La giustizia dove è? Dove è l'inchiesta? Dove sono i fascicoli d'inchiesta su questo fallimento, sul fatto che l'Inter non poteva essere scritta al campionato? Perché non si apre un fascicolo? Perché la FIGC e il Covizoc non vengono chiamati e messi sotto in chiesa o quantomeno sentiti per persone informate dei fatti? Perché? E ora parliamo pure della finale di Coppa Italia, nella quale questa finale di Coppa Italia la Juventus parte nettamente sfavorita, l'Atalanta che ha quasi disputato 50 partite tra l'Europa League, tra la Coppa Italia e il campionato, si è già quasi qualificata in campionato. E la Juventus invece che aspetta con le braccia concerte, così, che arriva il momento della partita senza lavorare, senza fare un allenamento intenso, senza fare nella stanza, come si dice, video, senza fare palestra. Dov'è la Juventus? Sta aspettando questa finale? Andiamo a fare questa finale. La presenza. Andiamo a fare la presenza. Si va a fare la presenza. Cioè il dubbio qual è? Se al posto di Bidon Locatelli gioca Bidon Miletti. Perché ci sono i bidoni della Juventus, come ben sapete. Cioè nessuno si pone il quesito che nella Juventus ci può essere Nicolussi Caviglia, che è un gran bel calciatore, che ha già giocato anche partite importanti. Ci può essere un Alcarez. Ci può essere un giocatore come McKennie, che sa fare anche regista. Ma noi non lo sappiamo che sa fare regista. E quando ci vengono a dire che abbiamo un centrocampo scarso, già non è vero questo, ve l'ho spiegato tante volte, ma abbiamo un allenatore scarso, un allenatore diciamo che ha distrutto, perché ci sono giocatori che stanno facendo bene ad altra parte e potevano far bene nel centrocampo della Juventus. Ma questo è un altro ragionamento. ci avviciniamo a questa finale di Coppa Italia. Io dico ai tanti tifosi della Juventus, saranno circa 40.000, forse non supereranno i 40.000, di andare bene a Roma, a fare il tifo per la Juventus. Fate il tifo per la Juventus, perché si tifa per la Juventus, ci mancherebbe altro. Però, quantomeno, quando si alza dalla panchina, riempitelo di fango, riempitelo di merda, questo personaggio. Riempitelo di concime, perché questo non merita altro. Ha sfasciato un intero ambiente, una intera Juventus l'ha fatta fuori. Ci presentiamo la Coppa Italia e presentiamoci la Coppa Italia. Ma francamente abbiamo tutto contro, a parte tutta l'Italia contro, quella ce l'ha sempre avuto. Abbiamo tutto contro, perché questo ha tolto l'anima alla Juventus, ha tolto l'aggressività, ha tolto il DNA la Juventus. Io mi auguro di sbagliare. Io mi auguro che domani sera venga fuori una partita tirata, bella, che finalmente possano i giocatori della Juventus trovare questa aggressività. Ma francamente mi sembra molto strano. L'Atalanta in questo momento merita di entrare in Europa dalla porta principale, merita di vincere le competizioni che sta disputando. Speriamo che la Juventus domani sera possa meritare di vincere la partita, che si ritrovi e soprattutto possa mettere in evidenza i suoi gioielli. I grandi gioielli che ha in rosa, perché la Juventus ha i grandi gioielli in rosa, messi al posto male, fatti giocare male, depressi dalle situazioni varie di questo allenatore, depressione totale. La Juventus è in depressione totale. Mi voglio appellare alla cabbara, mi voglio appellare alla cabbara, perché non ci resta che appellarci alla cabbara. Tre anni fa, nel 2021, vince lo scudetto all'Inter e la Juventus vince la Coppa Italia contro l'Atalanta. È la cabbara, speriamo che possa succedere anche questa volta, ma è solo la cabbara che ci tiene in piede. Quale formazione la Juventus potrebbe schierare? Io personalmente schiererei sempre Perini in porta, Bremer, Gatti e Rugani, che è la difesa dei Klinshit e la difesa più forte del campionato, secondo il mio modesto parere, perché fino a quando ha giocato questa difesa la Juventus è stata ai vertici del campionato. Poi giocherei con Weah, McKennie, Cambiaso o Cambiaso meccenni, centrocampista centrale, Rabio Kostic, Vlaovic chiesa, oppure Cambiaso destra e Alcarez, centrocampista centrale, perché c'è anche questa ipotesi. Dite anche la vostra formazione nei commenti, nei post. Naturalmente vi ringrazio tanto per avermi seguito in questo contenuto e soprattutto speriamo che la Juventus possa vincere la Coppa Italia per quanto ci riguarda. Naturalmente l'Atalanta è un avversario, un avversario importante, che sta meritando di avere i favori del pronostico con un allenatore che grazie alla vittoria ottenuta sulla Roma ha dato ufficialmente la Champions League alla Juventus. Quell'allenatore che nel suo curriculum c'è la Juventus, ma fino alla primavera. E lui vorrebbe allenarla, ma chi non la vuole allenare? Ma il discorso tecnico poi lo lasciamo ad altri contenuti. Alla prossima! Grazie a tutti!